Nel corso della lunga edizione del GF VIP, nella spiatissima casa, si sono formate due coppie, Giulia e Pierpaolo e Rosalinda Cannavò Andrea Zenga. Cosa ne pensa davvero Stefania Orlando delle due relazioni attualmente in corso anche a telecamere spente? La terza classificata si è espressa tra le pagine del settimanale Chi, in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza parlando anche dei principali rapporti che ha creato. Sebbene i rapporti tra Stefania Orlando e Giulia Salemi non siano proprio idilliaci, la terza classificata al GF VIP ha commentato la sua storia con Pierpaolo Pretelli Asserendo. Giulia e Pierpaolo, se non si lasceranno condizionare dall'esterno, potrebbero durare a lungo. E cosa ne pensa invece della storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? Su Rosalinda e Andrea non saprei, insieme li ho vissuti troppo poco. A proposito della giovane attrice, la Orlando ha svelato finalmente cosa accadde davvero nel magazzino tra Rosalinda e Daiane quando furono interrotte dalla stessa Stefania e Cristiano Malgioglio. Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l'occhio indiscreto delle telecamere.